Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Ero dal cinese, ho visto queste carte Ho resistito e l'ho preso Le carte pokemon dei cinesi Si a parte tralasciando il fatto che io di pokemon mi sono affermato a bianco e nero E non mi ricordo un cavolo Quindi chissà quali magici pokemon troverò qui dentro Non lo so Prima di iniziare come sempre mi invita e scrive al nostro canale Prima di sempre, aggiornati in un mondo di Yuke, non solo, grazie mille Vedremo se magari porteremo altra roba di questo genere Tralasciando il fatto che ovviamente comprate solo roba originale ragazzi Questo qui era tanto per fare un piccolo contenuto E vediamo, vediamo cosa contiene Contiene Charizard Scommetto che saranno tutte carte rare Vediamo Si, odore di plasticozza di carte modiano Versione fake Imbarazzante Ma io credo, io non sono esperto di pokemon A parte che la telecamera non rende bene Cioè pare che siano vere Però al tatto si sente che sono Però dai Non sono neanche così male Vediamo Vediamo Allora abbiamo Charizard V V V C'ho la luce sparata C'ho 30 luci accese Ok Charizard V Uh, abbiamo un Charizard Charizard Quello, quello vecchissimo Andremo subito a far gradare No vabbè Ah, un altro Charizard Un altro Charizard Eccolo qua Un altro Charizard C'è abbiamo il playset Non so se in realtà si giocano 4 per in pokemon Però per Yugi abbiamo il playset Abbiamo un altro Charizard Abbiamo un altro Charizard Sono plasticoze tantissimo Entei Bello, Entei Entei Molto, molto bello Uraiko Sì, le mie pronunce Ogni volta che vedevo l'anime dei pokemon C'avano sempre le pronunce diverse Da come cercavo di trillare io Ma Suicum tu chi sei? Weepir? No, Wiredir Wiredir Non lo so ragazzi Scusate Uh, ElectriWire Bello, ElectriWire Bello Io non devo ammettere Mi piacevo più queste qua Fatte normali Che queste Non lo so Sarà che io Vabbè Mi conoscete Sono molto classico Io non so chi tu sia Io non so chi tu sia DesiDwai Non lo so ArchCrow Lui è bello Zarud non so chi chi È una scimmia È una scimmia Eh però tu sei figo Tu sei figo Calyrex VMAX Tu sei figo Lumineon Vabbè Lei mi ricordo Un altro Lumineon Flappol Che non so perché Ho flashato Flygon Forse sarà il verde Kingler VMAX È vero che Da un bel po' Ci stanno in poco Come giganti E Shaming V Raichu V Un altro Shaming Ovviamente Eh Lui è figo Però È molto figo Sartwork è bella Vera Ecco giusto Le carte cinesi Si possono prendere Giusto per avere Le carte Per l'artwork E tenersele Per non fare nulla Ma al limite È quello Altro Kingler Oh mio dio Wimmy Scott Executor Bello Executor E invece Vuole un attimo Di pazienza Dracovish Arceus 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 Quello che volete Bello Però sono molto fighe Flygon Vabbè Vabbè Carte Poco Alla fine Sono Ho preso Le carte Poco Ma Grazie a cavolo Cioè Alcune Ci sono anche Delle foil Belle Arceus VMAX EYTRAN Ma ci hanno fatto L'evoluzione Di lui Finalmente Overquill EYTRAN Io adoro Perché in Pokemon Per gente Era completamente Inutile Avere quel Pokemon Credo Garchomp Golurl Che Me lo ricordo Regirock E a voi A te Regisil Regice No Un'altra scimmia Sì Mi servì DASNWAR Bello DASNWAR Ecco Lui sì Bello E Bacom Psico Io li adoro Deoxy Semi Tu DASNWAR E Ragazzam Zamasenta Poi abbiamo Luxury Cioè Luxury Luxury Non esiste Ah Flygon Foil Che mi pare Che abbiamo Trovato Luminium Foil Che abbiamo Exegguto Abbiamo anche Tre carte Foil Ragazzi Queste sono Ultra Secret Rear Comunque Allora Questo Era il contenuto Dello Scatolotto Ma in realtà Lo scatolotto E' anche Utile Perché alla fine Ci rifico Queste qui Però insomma Potrebbe essere Anche utile Hanno anche Dei pacchetti Non so Se vuole Anche Gli unboxing Dei pacchetti Però Mi sa che Non lo so Fatemi sapere voi Non so neanche Se questo video Farà 10 visualizzazioni Però un off topic Random Lo dovevo portare Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti E un saluto a tutti